Per tutti i consumatori è un momento particolarmente difficile perché l'aumento dei costi dell'energia si sta sviluppando sia sulle famiglie che sulle imprese che sui costi finali dei prodotti. Telefoni bollenti anche nelle sedi dell'Adi Consum Treviso Belluno per il caro Bollette, vera e propria voragine che sta mettendo in difficoltà sempre più utenti fra cittadini e imprese, gravando in primis sulla competitività della manifattura italiana ma alimentando anche il rischio di povertà per molte famiglie. C'è il rischio che tutte le conquiste che sono avvenute con la contrattazione vengano vanificate da un aumento dei prezzi alla quale le famiglie non riescono a far fronte, creando anche problemi da un punto di vista di stabilità finanziaria. L'Associazione dei consumatori, promossa dalla CISL che nelle due province raccoglie più di 800 iscritti, continua nella propria mission di offrire assistenza, tutela e informazioni ai consumatori in differenti ambiti, dai rimborsi relativi ai viaggi, agli acquisti, alle permute d'auto e alle varie tipologie di truffa in cui possono incappare i cittadini, ma quello dei rincari dei costi energetici è registrato a dir poco un'esplosione con numerosissime richieste. Altro fronte caldo poi è quello delle truffe, dove spesso le vittime sono le persone più indifese, ossia gli anziani. Le truffe che più spesso ci capita di dover gestire riguardano la volontà contrattuale di sottoscrivere un contratto, ad esempio le truffe del catalogo quando arrivano per casa e ti fanno firmare delle carte che poi si diverano ad essere un contratto. 100.000 euro il gruzzoletto recuperato nel triennio 2019-2021 da Adi Consum a Treviso Belluno per i contratti fasulli proposti a domicilio, ma di recente sembrano farsi sempre più strada anche nella provincia dolomitica i problemi legati ad un'altra tipologia di truffa. Negli ultimi due anni le truffe dell'identità, in particolare per quanto riguarda il settore bancario, arrivano messaggini sul telefono collegati al sito della banca perché c'è un'operazione sospetta eccetera e questo in realtà è un sistema fraudolento per entrare nel conto delle persone. 8.500 euro restituiti dall'associazione, in questo caso, che ha aderito inoltre ad un apposito coordinamento promosso dalla CISL per supportare le persone in difficoltà economica, tematica inevitabilmente aggravata dallo tsunami della pandemia Covid.